Dopo una settimana torniamo per la terza volta qui a Vibbo e come vi avevamo detto e come vi avevamo promesso la procura distrattuale antimafia di Catanzaro si è rafforzata su Vibbo con tre sostituti e col coordinamento del collega Bombardieri. La questura, la squadra mobile di Vibbo si è rafforzata perché il capo della polizia ha mandato sette nuovi ispettori e devo ringraziare il questore Bonfiglio che ha mandato tutte e sette gli ispettori alla squadra mobile di Vibbo. Non è solo un fatto di numeri ma è un fatto anche dal punto di vista pedologico di carica, di idea, di bisogno, di considerazione che la squadra mobile di Vibbo ha avuto e deve avere per poter contrastare questo tipo di andrangheta che c'è a Vibbo in Varenze che è un'andrangheta di serie A come quella del crotonese. Quindi sono veramente contento di questa attenzione che il questore ha dato alla squadra mobile di Vibbo. Ad esempio questo è un risultato, un lavoro di mesi, è stato necessario intervenire con urgenza perché come già vi abbiamo detto in conferenza stampa si stava preparando un altro omicidio e noi certo non ci potevamo permettere che avvenisse un ulteriore grave fatto di sangue qui nella provincia di Vibbo-Varenze perché noi dobbiamo incominciare a riprenderci con più determinazione, con più forza e con maggiore vigore, riprenderci il territorio dell'intera provincia di Vibbo. Vedo un certo nervosismo, un certo dinamismo da parte di locali di andrangheta, da parte di andrine e questo ci preoccupa ma allo stesso tempo noi stiamo più attenti e quindi ritengo complessivamente che siamo pronti a poter essere un filo ottimista sul futuro per questa provincia. È un'indagine che è stata seguita dalla scuola mobile di Vibbo e dal commissariato di Serra San Bruno con la collaborazione dello SCO e che è stata diretta dalle colleghe Frustace e dalla collega Liberti che è della procura di Vibbo applicato alla DTA proprio per testimoniare questa collaborazione fra le due procure finalizzata ad un controllo dei fatti delittuosi che qui a Vibbo, o come diceva il procuratore prima, per le articolazioni di andrangheta che sono presenti sull'intero territorio sono numerose. L'indagine nasce appunto dal tentato omicidio di Nesce Giovanni Alessandro che seguiva da un mese la morte dell'omicidio di Inzillo Salvatore. Quello che abbiamo registrato è stata una tensione continua all'interno del gruppo degli Inzillo che era finalizzato ad eliminare quello che ritenevano il responsabile di quell'omicidio. Gruppi, famiglia Inzillo da una parte, famiglia Nesce dall'altra, che noi collochiamo all'interno dell'ambito della faida risalente nel tempo tra Ilo Ielo e Emanuele. Quello che abbiamo registrato è stato in questa indagine in particolare un ruolo propositivo, attivo, delle due donne fermate che non si limitavano all'occultamento delle armi, al riperimento dell'occultamento delle armi di cui loro stessi ammettono detenzione e occultamento ma anche a questi propositi omicidiari che vengono rafforzati continuamente, vengono inculcati negli altri appartenenti alla famiglia con esternazioni anche violente che sono rivolte all'eliminazione fisica di appartenenti a quella famiglia. Ci siamo determinati ad agire sia in ragione di un pericolo concreto di fuga che derivava dall'invenimento di alcuni microspie che davano conto delle indagini e dall'utilizzazione di alcuni immobili abbandonati nei quali potevano nascondersi e che venivano utilizzati anche per l'occultamento delle armi. Ed anche perché appunto era palpabile questa tensione, questa ricerca di vendetta che peraltro recentemente nel gennaio scorso era culminato in un agguato che poi non è stato portato ad ulteriori conseguenze perché uno dei responsabili era stato avvistato accidentalmente da un membro della famiglia a Nesci e che aveva determinato l'allontanamento dal luogo di questi soggetti. Sono tutti episodi che evidentemente ci rendevano necessario un intervento perché era costante e continua questa tensione all'eliminazione fisica di altri appartenenti della famiglia Nesci. Procuratore, lei ha sottolineato in conferenza stampa che in queste dinamiche non rientra l'ultimo omicidio su quel territorio, quello di Bruno Lazzaro. Sì, l'omicidio di Lazzaro Bruno per cui procede la procura di Vibo, la procura di Naglia di Vibo Valencia non rientra assolutamente in questo scontro fra famiglia Nesci e famiglia Nesci. È un dato naturalmente elettuoso che si è determinato che indirettamente alimentava la tensione presente in quell'ambito familiare ma nulla a che vedere per quanto ci risulta allo stato delle indagini con quelle dinamiche di vendette, di fadia in cui si collegano invece i tentativi di omicidio di Nesci Giovanni Alessandro e di Inzillo Salvatore. Il capo della polizia ha ritenuto di mettere a disposizione della questura di Vibo risorse qualificatissime, parliamo di 11 ispettori. Il procuratore non aveva avuto l'aggiornamento sul numero. Sono stati tutti destinati alla squadra mobile, 10 qui e 1 alla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Serra San Bruno, ma ritengo sia una scelta doverosa, assolutamente necessaria perché oltre al materiale rafforzamento della squadra mobile in termini di numeri, in termini di professionalità, perché come ripeto sono quelli congettati recentemente da quest'ultimo corso qua proprio dalla scuola di Vibo che noi stessi funzionali della questura di Vibo abbiamo provveduto a formare con la nostra attività anche di docenza, ma è un segnale chiaro, nel senso che la questura di Vibo è sempre più impegnata in una lotta veramente alle cosche fatti e condotti in maniera costante, continuano nel tempo, estremamente professionale nei limiti chiaramente delle nostre capacità. Oggi abbiamo ottenuto un grande risultato che ha rappresentato evidentemente il frutto di otto mesi di indagine dove tutti gli uomini della squadra mobile, del servizio centrale operativo e del commissario di Serra San Bruno hanno veramente dato il massimo garantendo effettivamente un risultato senza precedenti. effettivamente nella giornata di oggi sono stati impiegati oltre 100 uomini e questo proprio a dimostrare quanto fosse importante intervenire in maniera convinta e forte all'interno appunto del territorio di Serra San Bruno.